E' come se avessi il router in soggiorno. Se solo ci fosse un modo di migliorare la connessione del wifi. Ciao e bentornati dal vostro Loretech. Qualche settimana fa avete visto il mio nuovo router di casa Fritzbox, il 6850LTE, che ci permette con circa 10 euro di avere internet illimitato a casa. Ma oggi è arrivato il momento di fare un bel upgrade. Ed è per questo che ho deciso di acquistare questi due, un'antenna wifi e un ripetitore. Ma direi di non perdere altro tempo e di cominciare subito. Cominciamo innanzitutto dalla nostra antenna 4G LTE. L'ho acquistata su Amazon, ha delle ventose che ci permettono di poterla andare a collegare a una finestra o parti magari in vetro. Si presenta in questo modo e questo scatolotto, ecco qui con la scritta 4G LTE. Nella parte posteriore abbiamo questo attacco a vite e i due cavi per andare a collegare le due antenne. Il cavo è abbastanza generoso così possiamo andare a collegarlo dove meglio vogliamo. Abbiamo due possibilità di posizionamento, una è da questa parte, quindi di tenerle in questo modo, e una è da quest'altra parte nella parte posteriore per andarla ad agganciare a un vetro. Lo abbiamo collegato, adesso andiamo ad eseguire i test. Avviamo uno speed test, siamo collegati vi ricordo con il nostro fritzbox. Risultato finale 34.31 in download, 38.55 in upload. Abbiamo aperto la nostra schermata di fritzbox, siamo entrati nel nostro router così da farvi vedere un po' la potenza del segnale. Purtroppo siamo abbastanza lontani dalla nostra antena, non abbiamo il pieno segnale. Per quanto riguarda la potenza delle antenne siamo a un meno 82 decibel e a un meno 100 decibel. Secondo la team ho una massima connessione, dovremo arrivare a 150 MB in download e 50 MB in upload. Adesso andremo a rimuovere le antenne e a installare la nostra nuova antenna così da eseguire nuovamente i test. Andiamo a collegarli. Collegate le due antenne andiamo ad avvitare il supporto che intanto andremo a posizionare qui. Questa è la soluzione finale, lo abbiamo posizionato dove era messo prima il nostro router e adesso andiamo ai test. Prima di eseguire i test vi faccio vedere un attimo sulle informazioni dell'LTE. Qua la situazione è migliorata, siamo passati a 89 decibel nell'antenna 1 e a meno 100 nell'antenna 2. e quindi già abbiamo una migliore qualità del segnale, abbiamo recuperato anche un'altra tacca e vediamo che succede. Beh un miglioramento sicuramente c'è stato, siamo arrivati a 35.05 e a 25.06 ma adesso andiamo all'ultimo test. Adesso lo andremo a spostare e collegare al vetro. Questo è l'altro scenario, attraverso la ventosa possiamo andare ad attaccarla al vetro. Rieseguiamo i test. Andiamo ai test. Antenna collegata, abbiamo fatto passare i fili temporaneamente all'esterno. Andiamo sempre su informazioni dell'TE, qui abbiamo avuto un altro piccolo miglioramento, anche la distanza dalla cella è diminuita da 400-500, siamo passati a 300 solo spostando all'esterno la nostra antenna, meno 87 e meno 98.86, 97. Beh ragazzi, risultato è sicuramente ottimo, 35.70 e 39.22, veramente, veramente ottimo. Beh ragazzi, che dire, abbiamo migliorato di gran lunga le potenzialità del nostro Fritzbox attraverso questa piccola antenna. Adesso però è arrivato il momento di migliorare la portata del nostro wifi attraverso un altro accessorio di Fritzbox. Il Fritz Repeater 600. Qua abbiamo l'anteprima del nostro ripetitore, la scritta Fritz. Per ogni unboxing che si rispetti ci muniamo delle nostre forbici, andiamo a rimuovere il sigillo e andiamo all'apertura. Vediamo cosa è contenuta nella confezione. Il nostro repeater, il manuale, lo faccio vedere, molto piccolo, è compatto, si alimenta attraverso una presa di corrente. Parte bianca con questa parte in rosso, simbolo ormai di Fritzbox. Qui la scritta Fritz è un piccolo led che si illuminerà, ci farà capire il corretto funzionamento. Ma andiamo all'installazione. Ci siamo spostati in soggiorno, faremo dei test e vediamo la qualità del segnale. Utilizzeremo il mio iPad. 35.5 in download e 40.5 in upload. Adesso andremo a installare il repeater. Adesso andremo a installare il repeater. Lo andiamo ad alimentare inserendolo. Lo andiamo ad accendere. Si è acceso il led. Sta lampeggiando. Per una veloce configurazione, una volta terminato il lampeggio, possiamo andare a premere sul nostro router la voce Connect VPS, in modo tale da farli comunicare molto velocemente. Ecco qua. Io in questo caso sono andato a collegarlo qui nella mia presa in soggiorno. In pochi secondi si è collegato al router principale, il Fritzbox 6850 LTE. Andiamo ai test. Beh ragazzi, veramente un ottimo risultato. 38.8 in download e 40.5 in upload. E poi abbiamo la piena ricezione. Beh ragazzi, devo dire, è veramente un risultato ottimo. Possiamo anche installare una rete mesh, velocità massima fino a 600 MB al secondo, che devo dire è più che sufficiente. Ma adesso è arrivato il momento di trarre le conclusioni. Vale la pena acquistare questi due accessori per migliorare il nostro Fritzbox 6850 LTE? Beh, per me la risposta è sì. Cominciamo dall'antenna. Qualità costruttiva, devo dire, ottima. I cavi sono abbastanza lunghi, circa due metri. Ci permette di poter collegare sia attaccata al vetro che magari poggiata o fissata attraverso dei tasselli, ai muri esterni della nostra abitazione. Indirizzatela verso l'antenna del vostro provider e vedrete sicuramente un aumento delle performance e delle prestazioni. Veramente un'ottima cosa. Abbiamo visto anche attraverso i test un aumento della qualità del segnale, per cui sicuramente un acquisto da fare si trova su Amazon intorno ai 20 euro. Ve la straconsiglio. Continuando con il secondo accessorio, il Repeater 600 di casa Fritzbox. Ci permette di aumentare la portata del nostro segnale Wi-Fi in tutta la casa. Come sapete purtroppo in soggiorno passano tantissimi muri, la qualità del segnale cala drasticamente, ma attraverso lui devo dire che la situazione migliora. È come se avessi il router in soggiorno. Veramente un'ottima cosa. Poi la facilità di installazione attraverso il tasto WPS presente sul router e cliccando il tasto rosso sul nostro Repeater, in pochi secondi si ha una velocissima associazione. Anche in questo caso abbiamo fatto dei test, devo dire, con risultati veramente veramente ottimi. Adesso però voglio sapere la vostra. Conoscevate questi accessori? Pensate di acquistarli? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io sono veramente molto molto curioso e spero il primo possibile di provare la versione 5G LTE. Magari vediamo se riesco a spostarmi in qualche zona in cui ho una piena copertura 5G e vediamo come si comporta. A questo punto non mi resta fra l'altro che salutarvi da Fritzbox, Lorettec, era tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!